un saluto da ivan di pacodigit torniamo a parlare di macchine fotografiche e lo facciamo con un modello che trovo estremamente interessante sto parlando della nuova fuji xs1 una bridge di altissimo livello direi che forse va quasi a creare una sorta di nuova categoria di nuova fascia di mercato perché si stacca in modo abbastanza netto dalle bridge che stiamo abituati a a maneggiare vediamo rapidamente il perché di queste cose la prima cosa che balza all'occhio è il corpo macchina un corpo macchina che non fa niente per essere compatto le dimensioni sono abbondanti direi che sono addirittura superiori alla grandissima parte delle macchine reflex entry level andiamo ad avvicinarci come dimensioni probabilmente anche delle macchine di fascia di fascia intermedia macchina che pesa circa un chilo siamo a 990 grammi al lordo di scheda di memoria batteria e il parluce di metallo che viene fornito in dotazione con la macchina quindi una macchina piuttosto impegnativa e anche da trasportare non è certamente la classica compattina di questo beneficia sia l'ergonomia di utilizzo sia un impugnatura piuttosto importante che forse verrà addirittura preferito ancor più marcata durante 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 gli scatti ma comunque va va parecchio bene una macchina costruita molto bene fuji scrive con orgoglio che è una macchina made in japan quindi lo scrive addirittura qui sulla sul retro della xs1 una macchina ripeto costruita molto bene nei dettagli con materiali di pregio veramente un bello oggetto a prescindere dal fatto che sia una macchina fotografica parliamo di qualche elemento tecnico come dicevo abbiamo a che fare con una bridge quindi una macchina compatta con un sensore da macchina compatta con ottica e notica molto evoluta molto versatile ma non intercambiabile quindi l'ottica è fissa abbiamo a che fare in questo caso con un 26 per di estensione che corrispondono a un 24 millimetri in modalità grande angolare con 2.8 di luminosità e un 624 mm in modalità supertele con luminosità 5.6 interessante notare che come abbiamo già visto sulla precedente serie hs anche questa xs1 ha la possibilità di gestire lo zoom direttamente dal dal barile quindi non abbiamo il classico motorino elettrico che fa avanzare ed arretrare l'ottica ma lo possiamo fare manualmente questa cosa secondo me apporta indubbili benefici sia per quanto riguarda la precisione della nostra zoomata che per la velocità con cui possiamo eseguirlo lo trovo molto molto interessante visto che sto parlando di questo elemento mi sembra giusto dire anche qual è il rovescio della medaglia la xs1 è una classica macchina che si può intendere come all in one cioè un oggetto a tutto tondo che possa essere una buona macchina fotografica ma anche alla bisogna una videocamera devo dire che durante la modalità video la necessità di zoomare con la seconda mano non è comodissima se questo viene accoppiato al fatto che la xs1 è a un peso considerevole la modalità video è la rende un pochino più impacciata rispetto ad alte bridge faccio una parentesi visto che sto parlando anche della modalità video anche se magari era più opportuno parlare dopo ma vorrei integrare ciò che ritengo essere la cosa più difettosa di questa macchina ne avevamo già parlato anche con nella parlando della hs 20 e ho provato in questi giorni anche la hs 30 vedo che hanno un piccolo difetto che le accomuna tutte e 3 e riguarda la capacità di mettere a fuoco nella modalità video anche quando si mette il fuoco continuo l'inseguimento del volto in alcune situazioni ambientali di luce scarsa quando ci si trova in particolare all'interno di una stanza le macchine hanno una tendenza a cercare continuamente il fuoco ma lo perdono in continuazione ho provato un po smanettare per cercare di correggere la cosa dico con molta franchezza che non ci sono ancora riuscito alla perfezione il problema so che era più evidente nella prima hs 20 ma non mi pare che sia stato del tutto risolto in tutte queste cose ho la sensazione che rilacciandomi al discorso che stavo facendo il controllo manuale dello zoom aiuti non aiuti moltissimo la messa a fuoco automatica nella modalità video dico subito che questi due aspetti dell'ex s1 sono a mio giudizio un po gli unici difetti che questa macchina ha ora proseguiamo nella descrizione e vediamo anche i suoi i suoi pregi togliamo anche il tappo così la vediamo nella sua interezza allora parte ottica l'abbiamo descritta abbiamo anche un secondo anello che ci permette di controllare la messa a fuoco anche in maniera manuale possiamo decidere anche in quale direzione da menù possiamo decidere in quale direzione operare la messa a fuoco sotto al barilotto dello zoom abbiamo anche questi fori sono due quindi abbiamo l'acquisizione stereofonica della voce durante i video questo pulsante ci permette di alzare il l'illuminatore incorporato è presente anche una slitta per un flash esterno nella parte bassa della macchina abbiamo anche questa levetta di selezione per le modalità di messa a fuoco qui abbiamo la lampadina ausiliaria per aiutare la macchina nella messa a fuoco tasto di scatto con la levetta di accensione della macchina che è coassial al tasto di scatto il tasto di scatto è a mio giudizio un pochino piccolo quello della serie hs è un pochino più grande e lo trovo un po più comodo non è niente di preoccupante è solo un gusto personale abbiamo questi altri tasti modalità di scatto continuo e controllo delle esposizioni lo scatto continuo è un altro elemento peculiare di questa macchina l'ex s1 in grado di scattare a piena risoluzione con cadenze di scatto di 3 5 e 7 immagini al secondo può spingersi fino a 11 immagini al secondo in con risoluzione ridotta quindi scatta a 6 megapixel che è la metà del della risoluzione massima raggiungibile la raffica si contraddistingue per un numero di scatti iniziali che vanno in base alle risoluzioni tra i 10 e i 20 con cadenza continua dopo la macchina continua a scattare ma mentre scrive sulla scheda di memoria naturalmente c'è un po di rallentamento perché si intase il buffer e la macchina continua a scattare ma con una cadenza di scatto rallentata ed irregolare quindi bisognerà tenerne conto qualora si voglia fare delle lunghe raffiche tasto fn 1 che ci permette di personalizzare tramite questo tasto richiamare una funzione a nostro piacimento di averla sempre a disposizione su questo tasto una seconda rotella più piccola per modificare i parametri che la macchina ci sta proponendo e qui il cuore della macchina questa rotella che ci permette di passare dalle impostazioni completamente manuali a quelle semi automatiche classiche fino a delle impostazioni personalizzate impostazioni avanzate o automatico interessante è questa funzione e xr che è un altro degli elementi assolutamente distintivi di questa fuji la modalità e xr è un software che è integrato nella parte intelligente della macchina che opera di concerto con un processore denominato anch'esso e xr il processore è in grado di modulare il funzionamento del sensore richiama una pubblicità di qualche anno che fuji utilizzava il sensore funziona un po come un camaleonte si adegua in maniera quasi istantanea alle situazioni alle quali si trova davanti quindi un sensore che può lavorare normalmente a 12 megapixel quando gli chiediamo di fornirci tutta la potenza tutto il dettaglio disponibile nei nostri scatti un sensore che ha la capacità di fare il binning dei pixel quindi di usare due pixel come se fossero uno solo per aumentarne la superficie e quindi cercare di ridurre il rumore digitale tipico di queste macchine digitali oppure si può accedere alle funzioni di espansione della gamma dinamica la macchina riesce a enfatizzare i colori quindi non so gli azzurri del cielo il verde della vegetazione in maniera assolutamente automatica possiamo chiedere la macchina di decidere lei autonomamente quale di queste di queste tre funzioni utilizzare oppure possiamo forzare una delle tre in base a quello che stiamo facendo devo dire che il funzionamento anche in automatico è estremamente affidabile ed estremamente efficace quindi per quanto mi riguarda assolutamente un plauso a fuji per questo tipo di funzioni inserito ormai da qualche periodo nelle sue macchine parte posteriore andiamo subito al pezzo 90 il mirino elettronico il mirino elettronico è un'altra di quelle cose che caratterizza fortemente la xs1 diagonale da 0,47 pollici quindi è già una misura importante il mirino dispone di ben 1,44 milioni di pixel quindi ha una densità veramente veramente molto alta io devo dire che sono rimasto entusiasta da questo mirino elettronico la visione è ampissima grande e veramente di altissima qualità non voglio arrivare a dire che sembra un mirino ottico non penso che ci si possa mai arrivare ci si può avvicinare ma considerando il tipo di macchina direi che è veramente molto molto interessante l'aggiornamento il refresh dell'immagine nel mirino elettronico si può settare in 30 frame al secondo o 50 frame al secondo mirino dotato naturalmente di correzione di iotrica in questo caso abbiamo anche la presenza di un sessore di prossimità che ci permette di switchare l'immagine dal pannello lcd al mirino semplicemente avvicinandoci al al mirino nella parte di sinistra abbiamo un tasto che ci consente di eseguire questa operazione in maniera meccanica cioè faremo lo switch dell'immagine solo premendo questo tasto non solo avvicinandoci alla al sensore di prossimità nella parte destra abbiamo il tasto rosso per avviare la modalità video di cui parlavo parlavo prima parte destra o meglio guardiamo la parte sinistra abbiamo il tasto per vedere i contenuti che abbiamo registrato sulla nostra macchina esposizione messa a fuoco valori iso bilanciamento del bianco ci sono anche delle seconde funzioni il display abbiamo a che fare con un pannello tft da tre pollici con risoluzione di 460 460 mila pixel quindi un buonissimo pannello che ha anche il grande pregio di essere incernirato quindi lo possiamo angolare a nostro piacimento per migliorare la nostra capacità o potenzialità di acquisizione di buone immagini nella parte destra abbiamo tasto di blocco dell'esposizione e del della messa a fuoco che possono essere fatte sia contemporaneamente o in maniera separata un altro tasto di funzione che si chiama in questo caso fn2 questo è un tasto che può essere a sua volta personalizzato per delle altre esigenze controllo delle modalità di intervento del flash macro che può diventare anche super macro ci permette di fotografare dei degli oggetti a una distanza veramente incredibile si può andare anche sotto al centimetro e la macchina riesce a mettere a fuoco quest'altro pulsante invece comanda il timer del per l'autoscatto interessante notare che la macchina in grado di scattare anche in formato raw quindi si possono anche scattare immagini in formato non compresso quest'altro pulsante invece ci permette di visualizzare le informazioni vitali della macchina sul nostro sul nostro display che cos'altro dire di questa macchina tra le funzioni interessanti direi che si può segnalare anche quella che è chiamata zoom intelligente la macchina ha sostanzialmente una sorta di moltiplicatore di focale incorporato di fatto avviene una piccola interpolazione di pixel che però è stata studiata molto bene mi sembra che funzioni piuttosto bene naturalmente sia una piccola perdita di qualità dell'immagine ma è veramente poca cosa la moltiplicazione può essere di 1,4 per o addirittura di 2 per questo porta la focale massima a oltre 1200 mm quindi una cosa veramente veramente incredibile però direi che funziona che funziona bene naturalmente la macchina è corredata di mille altre funzioni automatiche di modalità panoramiche di tantissime tantissime funzioni che richiederebbero mezza giornata per essere raccontate tutti tutte chiaramente bisogna avere la macchina a disposizione per poterla spremere fino in fondo e che cosa si può dire di queste xs1 io non voglio nessun modo nascondere l'entusiasmo per questa macchina considerando la categoria d'appartenenza direi che ha tirato molto in su l'asticella di questa di questa categoria delle bridge una macchina veramente molto bella ben costruita da veramente un gusto nell'essere nell'essere maneggiata c'è qualche piccola pecca che ho già descritto prima che direi che si concretizza più che altro in una certa incertezza nella scusa del gioco di parole nella nella messa a fuoco nelle modalità video c'è qualche 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 davvero qualche incertezza di funzionamento in quei momenti l'altro difetto è un fatto strutturale avendo a che fare con un prodotto di alta qualità è il prezzo stiamo parlando di una macchina che si può trovare intorno ai 700 euro qualcosa più qualcosa meno in giro quindi si stacca anche in maniera piuttosto netta dalle concorrenti dirette di altri di altri marchi direi che però il prezzo è abbastanza giustificato da da un sensore che come dicevo prima oltre a disporre di questa tecnologia proprietaria di fuji e xr è un sensore molto grande relativamente al mondo delle compatte che quindi garantisce una qualità di immagine mediamente superiore a quella dei sensori di dimensioni normali bene permettetemi di ringraziare il nostro amico alberto che ci ha messo a disposizione la sua macchina per questa prova e vi rimando ai prossimi test un saluto da ivan